In Sneder Electric acceleriamo il percorso di decarbonizzazione dei nostri clienti, offrendo un esclusivo portafoglio di servizi end-to-end. Ve lo racconto in 60 secondi. Primo, i nostri esperti forniscono consulenza sulle strategie di sostenibilità, approvvigionamento energetico e cyber security. Effettuano valutazioni in loco per aiutare i nostri clienti a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e dei processi e anche digitalizzare il loro diagramma unifilare grazie all'Electrical Digital Twin. Secondo, servizio on demand. Con 30 anni di esperienza, la nostra global community di esperti esegue installazioni, corregge guasti, effettua diagnosi e anche piani di modernizzazione. Terzo, i nostri piani di servizio permettono l'accesso prioritario agli ingegneri sul campo, nonché supporto remoto 24-7. La nostra piattaforma EcoStruxure consente monitoraggio continuo, analisi avanzate e raccomandazioni di esperti. Meno rischio di guasto elettrico, maggiore durata dell'attività e strategia di manutenzione mirata. Questo è il vostro viaggio nella conoscenza dei servizi di Snedere Electric in 60 secondi.